Il filo conduttore è la parola play, proprio il significato triplice addirittura che ha nella lingua anglosassone, cioè di gioco, di recitazione e di suono, nel senso di tirare fuori un suono da uno strumento. Quindi le tre cose paradossalmente sono tutte coinvolte in questo titolo partenopoli. Quindi si gioca, si recita, si suona su Napoli e con Napoli, si prendono i pezzi che hanno una storia ormai centenarie in alcuni casi e lì si porta in giro per il mondo a sporcarsi con le altre culture. Anche se sporcarsi può sembrare negativo, invece in questo caso si prende il meglio dal mondo anglo-americano, dalla musica afro, dalla musica sud-americana, nel senso sia la bossa nuova brasiliana che addirittura il tango. Quindi ci siamo divertiti veramente a mescolare tutto con tutto, tirandone fuori sembra qualcosa di molto derivato, garbato e che abbia comunque le caratteristiche della novità pur essendo materiale ormai a disposizione dei popoli da secoli.